La spiaggia La Grotta e il sentiero naturalistico della Ripa presentano delle vistose criticità. Un solo cestino per la raccolta di fiuti sulla spiaggia e nessuno lungo il sentiero. Materiali spiaggiati, alghe ed erbacce accompagnano i residenti come i turisti al mare. Gli accessi che portano allo scoglio del coccodrillo sono ostacolati da una folta vegetazione e sono privi di staccionate protettive. L'ingresso alla spiaggia andrebbe valorizzato con un abbellimento floreale evitando a macchine e motorini di stazionare nell'area d'ingresso. Con una lettera indirizzata al primo cittadino di Castellabate, Costabile Spinelli, il capogruppo di opposizione Alessandro Lo Schiavo, nella giornata di ieri, martedì 11 giugno, evidenzia alcune criticità riscontrate in località San Marco. In qualità di consigliere comunale, con la presente denuncio in seguito a numerose segnalazioni di turisti e residenti, la situazione di incuria della spiaggia alla grotta e dell'ingiustificato ritardo negli interventi di pulizia. La stagione balneare è finalmente iniziata, il maltempo è alle spalle, la spiaggia continua ad essere per nulla accogliente, piena di alghe e imputrefazione, di materiali di ogni natura, dotata di un solo e piccolo cestino per la raccolta differenziata dei rifiuti e, come ogni anno, senza passerella per disabili. Inoltre, segnalo, sottolinea Lo Schiavo, anche lo stato di abbandono dell'ingresso alla spiaggia e del sentiero naturalistico. Dagli atti risulta che la gara per l'affidamento dei lavori per la pulizia degli arenili è stata indetta nella prima metà di aprile. I lavori sono in corso da oltre un mese e mezzo ed hanno interessato Lago, San Marco e Pozzillo, mentre per un piccolo tratto di spiaggia che doveva già essere pronto all'attività balneare ancora siamo in attesa. Restano due fatti che in questo momento sono incontrovertibili, un pessimo biglietto da visita che presentiamo ai pochi turisti di questo periodo e la mancanza di sicurezza della spiaggia. Perciò invito formalmente l'amministrazione comunale a predisporre con urgenza tutte le attività per porre fine a tale situazione, facendo pulire le spiagge con una pianificazione programmata e puntuale. Ma dopo il reportage del consigliere Lo Schiavo, corredato di foto, stamane mezzi meccanici e operai della Castellabate Servizi si sono precipitati nel campo oggetto della segnalazione. La denuncia, conclude Lo Schiavo, mette in risalto una pianificazione degli interventi non puntuale e rispettosa dei cittadini e turisti.